Vi saluto. Siccome hanno pochi tempi a questa parte, questi parlano di cose che hanno avuto a Ciccio, io sicuro anche uno ha pensato che hanno avuto anche una discussione, ma vi posso assicurare, connetta così. Dinti di queste, pure Ciccio mi ha detto un sacco di cose, io ve ne ho parlato, perché anche uno ci faceva dire il panettone storto. Che l'ha fatto per Ciccio, ce l'ha detto pure alla me come io, ma io pure che si ha messo a rire. Anzi, proprio per Ciccio è capito cui ci aveva creduto. La dimostrazione l'ha avuto a ieri. Quando è venuto a me trovare? Io mi vengo a dire a Rire per come fa, per come si comporta. ha salutato tutti, ci ha dato la mano. Ad uno, ad uno. Ma quando è arrivato davanti a me, invece mi stendere la mano, ha piato la posizione in attorno proprio. Ed ha cominciato a recitare. Sa' integredare tutti i momenti, vota per noi che ti ne pente. Noi ti volemo bene, ma chi tu sa, ha la votazione, vota. Cacca. Don Ciccio arriva. Insieme ad Anconato va dicendo caputo deputato. Du Vaticano tena sorda a sacco. Entri quarchiere va di un anno opacco. A cui i preveti si mangia, perché la deve votare? C'è un ciancia. Votare i comunisti, c'è un ciancia. Ma il popolo faceva murigumma, piava un pacco e poi votava pchumma. A questo punto Ciccio ha piato un pochino e ha ripiato dicendo e vive e viva, a canzone comincia, hanno lasciato questa provincia. Ma i meriti si piono tutte, pure i partiti piccoli e brutti. Tutte contente. E questo fatto? Ma i partiti hanno fatto un patto. Da profettari, provincia e comune. Guarda questo popolo, quante ammigioni. Come ha detto che si è affermato? Ed io l'ho guardato come... Si può guardare ad uno che non ha capito niente. Ma come ci ha detto ci? Ripetendo queste cose, che mi vuole dire? Guarda che sono cose che ho scritto io. E riconoscio buono pure. Ciccio, senza lasciare la posizione di un commediante, mi risponde. Tu l'hai potuto scrivere. Ma la gente, la ricucionese, c'è da rifiscare la memoria. Per l'aiutare a pensare a chi le possono fare, visto che dentro queste orne hanno diventato tutte brave. E pensano ad altro che ero bene del popolo. La politica. L'hanno fatto diventare un circolo. Come chi le dice i miei? Un circolo che qui te ha giante. Un circolo, c'è però, inane e ballerine. E tant'animale. Dove, maggiormente chieste, l'animale, su ripetere. Pensano che intorno tenono solo ciucci. Non continuo, ma guarda. Ma te la ricordi a battuta Ciccio passi sotto. Chi è che una volta l'ha fatto un piccolo circolo che ha piato fuoco a cucione? Se mi ricordo bene, si chiama Zavatta. Tant'anni a rete. Chi era battuta? I politicanti nostri ripetono oramai i quei cinquant'anni. Perchè sono sicuri che i cotonesi sono tutta una massa di giucci. Perciò, spiega cella dei cotonesi. Maggiormente eri giovani che sanno fare piare per fesse quelle promesse. Che dopo nessuno mantiene questo problema più serio. Ma fare come facevano i nonni loro. Pacco è trumma. Credetemi. A questo punto, osservava più chi c'ava a dire. Perchè stava facendo un discorso più serio di quanto si può pensare. Ma, per contare a voi, mi venivano poche. Perciò ci ho detto, sì. Ma, secondo te, dentro una campagna elettorale, dove ogni palora è una corteggata, io mi metto da me e ci dice alla gente come deve votare e fare come facevano dopo la guerra. Non è che mi metto a fare pure io la campagna elettorale. Allora, al massimo, posso contare quello che capita e quello che dicono. Ma dove vanno a votare e da qui vanno a votare. Saranno a scegliere loro. Ci pensano poco e poi mi fanno. Pensando che è buono, te ne hai ragione. Ma tu mi fai una cosa. Allora la televisione. Non c'è la discussione nostra che le abbiamo detto. Senza spiegare niente e senza cedere niente. E poi ognuno fa quello che vuole. che i putonese sanno che le canno fare. Un bel saluto.